Buongiorno a tutti, sono oggi a presentare la nostra scuola di alta formazione, una scuola che ci permette di entrare nel mondo dell'epigenetica e quindi tutto quello che sono i fattori che condizionano la salute delle persone. La nostra scuola di alta formazione prevede un weekend al mese ed è possibile ancora oggi, nonostante sia partita a settembre, iscriversi quando si vuole perché è possibile rivedere tutte le lezioni precedenti perché ogni weekend la scuola viene registrata, è online, quindi è in FAD, quindi è possibile sia rivedere quando si vuole le lezioni precedenti oppure partecipare attivamente ogni weekend fino a marzo ai vari appuntamenti. È una scuola con oltre 20 relatori di fama nazionale e alcune internazionali con una preparazione, una professionalità teorico-pratica veramente unica al mondo, una scuola che è una vera e propria rivoluzione nel campo della formazione perché avere argomenti come la nutrizione, la nutraceutica, l'ambiente, i danni da inquinamento, il discorso di biodisponibilità, assimilazione, l'approccio nutraceutico e nutrizionale e avere l'esperienza clinica di questi professionisti penso che sia un grande valore aggiunto e una grande opportunità di formarsi perché chi non si forma si ferma.